aumentando la raccolta differenziata e sicuramente non bruciando tutti i rifiuti. Le ricordo tra l'altro che nell'articolo 35 dello Sblocca Italia, oltre che al Piano Nazionale dei Termorizzatori, la cosa più drammatica è che voi avete messo il funzionamento degli inceneritori fino a saturazione del carico termico, che tradotto vuol dire se io avessi un'automobile, invece che rispettare i limiti di velocità a 120-130 all'ora, se l'automobile può andare a 260, vado a 260 km orari. È evidente che questi inceneritori bruciano di più, inquinano di più e la gente in Lombardia si ammala molto di più, anche purtroppo, di cancro. Concluda. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 320-73 dei deputati Matarrese ed altri concernente elementi di iniziative in ordine alla problematica delle discariche abusive ancora attive in Italia, con particolare riferimento a quelle presenti nella Regione Puglia. Il deputato Matarrese ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da un minuto. Prego, collega. Grazie, Presidente. Signor Ministro, delle 89 procedure di infrazione che riguardano l'Italia, ben 18 sono di natura ambientale e riguardano in particolare le discariche abusive o le discariche illegalmente gestite. Nell'ultimo intervento sono state messe numerose e consistenti risorse che hanno consentito di risolvere la problematica dell'elettiva nell'ultimo semestre a 15 discariche. Ora, le chiedo qual è la situazione relativa all'ultimo semestre del 2015, soprattutto con particolare riferimento alla Puglia, per la quale emerge nell'ultimo tavolo tecnico tra il Ministero e la Regione Puglia la presenza di 12 discariche illegali e abusivamente gestite. Quindi le chiedo quali sono le azioni e iniziative che si vogliono intraprendere sia per ridurre l'impatto delle sanzioni europee, sia per, in via anche preventiva, risolvere il problema della Regione Puglia. Grazie. La ringrazio. Il Ministro dell'Ambiente Galletti ha facoltà di rispondere. Prego, a tre minuti. Grazie, ringrazio l'On. Matarrese per permettermi di fare il punto su una questione così delicata. In relazione al caso relativo alla mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva sui ripiuti europei, tenuto conto dell'intensità svolta, dell'intensa attività svolta dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni che sono rivolte, si è passato da 200 discariche a 155 soggette a infrazione. Nel mese di giugno 2015 la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche ed un errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale. In dato 8 febbraio 2016 la Commissione europea ha riconosciuto altresì la messa a norma di 29 discariche e di un ulteriore errore di censimento, escludendo i relativi siti dal computo della penalità semestrale. Si è così passati dalle 200 che erano oggetto di infrazione all'inizio alle 155. Si fa inoltre presente